Sì, questa mattina sono insieme ai miei collaboratori, il segretario politico Mirko Coriacci e il collegatore dell'area di Rimini Roberto Brolli, siamo andati prima dal Vescovo a presentare perché insomma penso che abbiamo fatto un'operazione importante nell'andare a realizzare cooperative a Romagna, soprattutto in questo particolare momento in cui la situazione è particolarmente critica sia a livello economico che a livello sociale. Poi siamo venuti in questa importante cooperativa che è la Formica, il Presidente lo conoscevo ed è uno molto energico e insomma ed è chiaro che oggi a livello economico e a livello sociale le cooperative di tipo B hanno una particolare importanza, creano economia e il collegamento con una risposta sociale e quindi insomma noi come cooperativi necessariamente da questo connubio dobbiamo, è il momento insomma dobbiamo ripartire insomma l'economia e il sociale possibilmente pensando che il sociale prevalga in alcuni casi come succede nelle cooperative di tipo B sull'economia, cioè l'inserimento lavorativo e l'importanza della persona al centro del progetto sia più importante di quello poi che alla fine è il risultato economico all'interno dell'accomperazione dell'economia.